Amici di TG Event Television, siamo a Sanremo, perché siamo a Sanremo? Questo non l'ho ancora capito, però faremo cantare il pubblico, faremo cantare un sacco di amici e iniziamo subito da lei che ci ha raggiunto. Lei è riconosciuta? Sì, sì, può? L'ho riconosciuta. Non l'hai riconosciuta? Eh, sono proprio io. È lei, è lei. E' famosa, è famosa. Ce lo facciamo dire da lei chi è. Dillo, chi sei? Sono Giorgia. E questa sono io, non lo voglio l'oro nero. Eh, è la Giorgia. Cosa ci canti? Come saprei. Bene. Vai. Io ci arriverei nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi. Emozionando sempre più. Fantastico, fantastico. Va bene. È uno per ogni più. Vieni. Cosa vuoi cantare? Come ti chiami? Anna. Anna. Anna e Marco, perché io sono Marco. Anna e Marco. Devi cantare quella di Dalla, allora. Quale? Dalla via. Dalla via. Dalla. Eh, da. Allora, cosa canti? Quello che vuoi. D'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Vabbè, 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 ragazzi. Ma brava! Ma brava! Eccoli qua. Come ti chiami? Napoli. Te voglio bene assai, ma così bene assai. Grande, grande! Grazie! Bravissime! Vabbè, Marco. È tanta roba. Le gemelle Kessler che aspettate. Eh, beh, beh, beh. Un po' adattate. No, però sempre. Caldina vecchia fa buono. Eh, no, ma molto vecchia. Vabbè, ma brava bene. Come ti chiami? Emanuela. Si chiama Emanuela. 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 Antonella. Antonella. Che cosa ci cantano queste due splendide? Caruso, Caruso. Caruso, veramente? Là dove il mare lucica e tira forte il vento. Là sulla terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Molto bravo. Là dove il mare lucica e tira forte il vento. Cancela. Cancela. O l'olio bene sai, ma tanto tanto bene sai. È una catella rai. Che non si vence da una sola. Basta che ti ci sono la lettura. No, bene, molto bene. Perché va bene. meno male che non è stagione di pomodori allora Bruno come è andata sta giornata qua a Sanremo? bene io sono però molto stanco ma questi problemi hai? siamo stati a Sanremo a fare una giornata meravigliosa, abbiamo fatto cantare tantissima gente e vi aspettiamo per la prossima puntata a voi studio breve con cibo